Quante volte, no, abbiamo usato l'espressione rompere il ghiaccio, no? Eh, avevo mojito così rompiamo il ghiaccio, no? Cioè, significa superare l'imbarazzo iniziale, no? Quando conosci qualcuno. Invece a Courmayeur significa scappa prima che puoi. Courmayeur, il ghiaccio, plan pincieux, mi nasce di cadere, strade chiuse e case evalquate. È terribile, pare che siano 250.000 metri cubi di ghiaccio appesi con uno sputo al Monte Bianche. Bianca, bunchio, binchia. Sono anziano. Sono già le 22.31, io a quest'ora vado a dormire sempre. Ora, questo blocco di ghiaccio è grande come un grattacielo. A Courmayeur sono tutti col naso all'insù ad aspettare l'arrivo del calippo più grosso dell'umanità. Tra l'altro pensavo, ma se in montagna devono evacuare le case perché gli crollano i ghiacciai in testa? E poi dove li fanno sfollare? Al mare? In Liguria? E beh, è una figata, io li prendo volentieri. Guardate che è una bella soluzione temporanea, potrebbe anche andare bene. No? Peccato che l'ONU lancia l'allarme, cicloni sempre più potenti, aumento dei mari, città costiere minacciate. E porca puttana, ma nemmeno in Liguria? E montagna no, mare no, si salva solo la collinetta. Finiremo tutti a vivere nel borgo di Cucinelli. A sentire l'ONU, se non facciamo niente, Genova fra 50 anni sarà così. A casa mia ci abiterà una famiglia di branzini. Forse è arrivato davvero il momento di smettere di far finta di niente. Tra l'altro all'ONU hanno chiamato anche Di Maio a parlare. Quindi la situazione deve essere davvero fuori controllo anche per loro. Ma infatti sono scesi in piazza in tutto il mondo milioni di studenti per il Friday for Future. Oggi in 180 città più di un milione sono scesi in piazza. Solo a Milano pare che fossero 150.000. Tra l'altro 150.000 qui per le strade di Milano contro il riscaldamento globale. Fantastico. Peccato che contemporaneamente ci fosse lo sciopero dei mezzi pubblici. Quindi tutti i milanesi erano in macchina bloccati nel traffico. Solo Milano ha dato una botta di CO2 al pianeta che adesso pare che Greta farà una seconda manifestazione contro il Friday for Future di Milano. Peccato che nonostante milioni di studenti stiano protestando le risposte che riusciamo a partorire per contrastare l'emergenza climatica sono discutibili. Eh ragazzi? Prendi le autodiesel. In Europa pare che vogliano bloccarne la circolazione entro pochi anni. È giusto. I diesel inquinano. Ma se producono gas serra... Seguite un attimo il mio ragionamento. Perché poi le spediamo in Africa? Vecchie autodiesel è l'Africa la nuova discarica del mondo. Fatemi capire. L'Africa non è lo stesso pianeta. Cioè rispetto ai gas serra che differenza fa? Se il mio diesel lo uso io o un fruttivendolo di Nairobi. Cioè nella troposfera, fortunatamente non essendoci Salvini, i gas africani vanno e vengono come minchia vogliono. Lo capite questo? Finirà che dal 2020 non andremo in Africa a fare i safari per vedere gli elefanti e andremo lì a fare foto alla nostra vecchia twingo. Sai, diesel Euro 1. A me alle volte mi sembra che invece di affrontare il problema vogliono solo venderci nuove macchine, nuovi scooter, no? E che nell'ambientalismo il livello delle contraddizioni si stia alzando più di quello del mare. Vi faccio un altro esempio. Questo è il Bosco Verticale, qui a Milano. Sono due edifici di Milano che hanno vinto il premio come i grattacieli più belli del mondo. Hanno le facciate rivestite da alberi veri. Sono terribilmente eco-compatibili. Risparmiano ogni anno 25 tonnellate di CO2. Da quando le ha create il loro progettista, l'architetto Stefano Boeri, continua a girare il mondo per fare conferenze su come sono ambientalisti i suoi edifici. Peccato che ogni volta che prenda un aereo Boeri individualmente consumi circa mezza tonnellata di CO2 a viaggio. Alla fine dell'anno produce lui da solo molta più CO2 di quella che risparmiano i suoi edifici. Quindi la prima cosa che dovremmo fare per salviare l'ambiente è far smettere a Stefano Boeri di fare conferenze su come salvare l'ambiente. Lo capite? Perché gli aerei inquinano. Ce lo insegna anche Greta Thunberg. La grande Greta. Tra mille anni le meduse diranno di lei c'è andata bene, cazzo. Se l'avessero data retta, ora non saremo noi la specie dominante sul pianeta. Io Greta la vedo come un angelo. Dite quello che volete. Io spero che quei frustrati che la criticano si estinguano per ultimi così fanno in tempo a capire quanto sono stati i coglioni. Anche lei è andata all'ONU a parlare di clima e di lotta al biossido di carbonio. Però ci è andata con una barca a vela. Il Malizia 2 di Pierre Casiraghi. È stato un esempio meraviglioso. Come dice lei, smettendo di viaggiare in aereo si riduce la propria impronta di carbonio. Sacrosanto. Basta carbonio. No, perché se guardi la barca la barca ha lo scafo di plastica e l'albero in carbonio, no? Quindi teoricamente senza carbonio per arrivare a New York le rimarrebbe solo lo stile libero. Vi spiego? Ma non c'è solo questo. Stando quanto dichiarato dal D. Tagess come cazzo si chiama? Tagess Zeitung quattro membri dell'equipaggio del Malizia 2 dovranno viaggiare a New York a bordo di un aereo per portare indietro la barca a vela. Cioè per non inquinare invece di un biglietto per Greta ne hanno comprati quattro per gli skipper. Beh, almeno fate una cosa. Prendete lo stesso volo di Boeri così smezzate il CO2. Ma io a Greta perdono tutto anche perché essere ambientalisti duri e puri ragazzi è quasi impossibile. Cioè anche nel nostro piccolo è sacrosanto non sprecare risorse fare la differenziata eliminare la plastica inquinare il meno possibile però più di così come si fa a non inquinare mai? Ricordiamoci sempre che tutti gli esseri viventi quando respirano emettono CO2 per non parlare di cosa succede quando vanno in bagno. Provocate da bovini 74% di emissioni gas effetto serra. E che cosa facciamo? Ad ogni mucca affanchiamo uno stronzo verticale coperto di piantine? Cioè è difficile raga essere ambientalisti senza macchia e anche quando ci provi fai fatica guarda lui Giovannotti il guru dell'ambientalismo pop quest'estate ha organizzato una serie di concerti sulle spiagge italiane il Giova Beach Tour l'ha fatto col patrocinio del WWF e quindi dal punto di vista dell'ecologia era copertissimo eppure si sono incazzati tutti lo stesso Messner Mauro Corona la Lipu Lega Ambiente Italia Nostra l'Ente Nazionale Protezione Animali dell'associazione sparsi sul territorio chi difendeva le spiagge chi gli uccellini chi le tartarughe chi i fenicotteri ovunque andasse gli ambientalisti lo trattavano peggio di Bolsonaro tanto che lui si è sfogato così Giovannotti le polemiche sul Giova Beach Tour mondo ambientalista inquinato come le fogne ecco quando un ambientalista dà della fogna inquinata ad altri ambientalisti l'opzione estinzione della specie umana diventa fin ragionevole l'unica tappa che non ha sollevato Vespai è stata l'ultima qualche giorno fa quando ha fatto il suo concerto a Linate l'ultima tappa del Giova Beach Party a Linate d'altra parte all'aeroporto di Linate qua le specie minacci di estinguere al massimo all'Italia ma ci riesce benissimo da sola che cazzo estingui centomila centomila persone al concerto ragazzi centomila un trionfo bravo grande Giovanotti ma infatti Giova Damiretta fa gli imposti così i concerti usa spazi dismessi aree da riqualificare vai all'ilva di Taranto vai a Bagnoli lascia perdere le spiagge ormai ha un'età 53 anni suonati riflettici tra l'altro li compie oggi il 27 settembre fate un applauso a Giovanotti auguri Lorenzo auguri fa una grande festa pare che per la sua festa abbia organizzato un rave coi trattori sulla barriera corallina dove sta arrostendo dei panda sto scherzando Giova sto scherzando sono koala comunque pur avendo quasi l'età di Ciriaco Demita sembra ancora un ragazzino lui piace a tutti sia i giovanissimi sia le loro nonne solo che le loro nonne 50 anni fa andavano a Vustoc a vedere i miti del sesso droga e rock'n'roll mentre quelli che vanno a sentire lui trovano più un animatore di comunione e liberazione il suo messaggio è ultra assicurante non sporcate le spiagge non bevete quando guidate idratatevi più che la filosofia di un rocchettaro sembrano i consigli del Tg4